Corso per diventare un influencer. Benvenuti al nostro corso completo su come diventare un influencer di successo. Diventare un influencer richiede impegno, creatività e strategia. In questo corso imparerete le competenze fondamentali necessarie per costruire una carriera influente sulle piattaforme di social media. Modulo 1. Identificare la tua nicchia. Scoprite il vostro interesse principale. Analizzate il vostro pubblico di riferimento. Trovate il punto di connessione tra la vostra passione e il pubblico. Modulo 2. Creare contenuti coinvolgenti. Conoscete i formati di contenuto più efficaci. Utilizzate strumenti di editing per migliorare la qualità delle vostre foto e video. Sviluppate una voce autentica. Modulo 3. Costruire una presenza online. Ottimizzate il vostro profilo su tutte le piattaforme. Sviluppate una strategia di pubblicazione. Utilizzate hashtag e parole chiave in modo efficace. Modulo 4. Gestire i partner e le collaborazioni. Identificate le opportunità di collaborazione. Creare proposte di partnership convincenti. Negoziate i contratti e garantite una partnership di successo. Modulo 5. Misurare il successo e crescere. Utilizzate metriche chiave per valutare il vostro progresso. Adattate la vostra strategia in base ai risultati. Sviluppate un piano di crescita a lungo termine. Modulo 6. Gestire le critiche e mantenere l'integrità. Affrontate le critiche in modo costruttivo. Mantenete l'autenticità e l'integrità. Gestite situazioni di controversia in modo professionale. Modulo 7. Monetizzare la vostra influenza. Esplorate diverse fonti di reddito. Creare un kit media per attrarre sponsor. Rispettate le leggi sulla pubblicità e la trasparenza. Modulo 8. Mantenere la crescita sostenibile. Gestite il vostro tempo ed energie in modo efficace. Mantenete una mentalità di apprendimento continuo. Mantenete un equilibrio tra vita e lavoro. Modulo 9. Prepararsi per il futuro. Adattatevi ai cambiamenti nelle tendenze social media. Esplorate nuove piattaforme e opportunità. Mantenete una visione a lungo termine per il vostro successo. Modulo 10. Conclusioni e certificazione. Riassumete le vostre competenze acquisite. Completate il corso e ottenete il vostro certificato di influencer. Siamo entusiasti di accompagnarvi in questo percorso verso il successo come influencer. Siamo entusiasti di accompagnarvi in questo percorso verso il nostro percorso verso il nostro percorso verso il nostro percorso verso il nostro percorso. Siamo entusiasti di accompagnarvi in questo percorso verso il nostro percorso verso il nostro percorso. Siamo entusiasti di accompagnarvi in questo percorso verso il nostro 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 percorso.